Ciao a tutti bambelotti e bambelotti e benvenuti in un nuovo video Allora, sono tra mila giorni che sto cercando di editare un altro tutorial vecchissimo, ormai è diventato vecchio, da quanto tempo l'ho registrato ma mi è arrivata questo pacchetto a sorpresa da Mulac che non avevo la minima idea che mi avrebbe inviato perché come sapete non mi spedisce sempre tutto se lo possiamo fare e quindi diciamo che non me lo aspettavo e invece mi è arrivato un'email con scritto che mi sarebbe arrivato quindi ero super contentissima scusate ed è anche un motivo per cui sono praticamente struccata nel senso che ho solo la base e il rossetto che tra l'altro è io ho la memoria è Ice Lay OK, sempre di Mulac che è una delle mie tinte labbra preferite è un colore che amo, veramente lo adoro e niente, allora mi è arrivato questo pacchettino con nuovissimo mascara Mulac che si chiama Gentleman che ha questo colore blu come packaging che adoro sul tappo al solito ricamo da mascato che è uno dei suoi segni di riconoscimento e quindi insomma sono qui praticamente solo con la base con il mascara che ho già applicato sulle ciglia e che ho cercato di farvi una ripresa da vicino ma veramente spero che si veda qualcosa di decente non sono sicura vi ho registrato qui una piccola clip da vicino per farvi vedere l'applicazione ma non sono stata molto brava perché io non ho l'autofocus ho fatto un po' di fatica però adesso vedrò in fase di editing come viene e niente, quindi vi lascio appunto all'applicazione ci tenevo tantissimo a ringraziare Mulacal Cosmetics per avermi inviato il prodotto e come vi ho detto anche dopo vi sopra dire nei prossimi giorni come vi trovo vi lascio il resto del video e a tra poco ciao allora in teoria se resto così perfettamente immobile mi si dovrebbe vedere l'occhio allora mi è arrivato piegaciglia quindi proviamo subito calcolate che la parte finale di queste ciglia non so se si nota sono completamente strappate quindi stanno ricrescendo però la parte finale qui non è il massimo non so se si nota non so se si nota io sto cercando di rimanere a fuoco il più possibile e niente, ho cercato di metterlo allora ho fatto una prima passata da vicino per farvi vedere proprio il primo effetto ora cercherò di fare una seconda passata del prodotto da lontano perché ho aspettato anche che si asciugasse e anche perché stavo impazzendo per metterlo da vicino con la videocamera attaccatissima che andava perennemente fuori fuoco quindi insomma vabbè allora diciamo che con questa seconda passata da asciutto l'effetto è più drammatico allora siccome non so poi come monterò il video ve lo ripeto anche adesso io in quest'ultima parte qua di occhio ho le ciglia strappate ve lo avevo mezzo raccontato mezzo no perché dovete ancora vedere i vari tutorial che ora andrò ad evitare quindi prima vedrete questo video perché il mascara è uscito oggi online sul sito Mula che vi linko nell'info box e dato che mi è stato gentilmente inviato ho pensato di dare la precedenza a questo video qua come sapete io faccio sempre così quando mi viene inviato qualcosa dalla precedenza a quello che mi viene mandato proprio come simbolo diciamo di riconoscimento quindi mascara non vi so dire la durata non vi so dire niente vi posso dare una prima impressione proprio sul momento proprio a fresco perché l'ho appena testato appena aperto appena provato allora comunque il busolotto il prodotto è anche tanto per un mascara sono 13 ml ha un pauso di 6 mesi però vabbè io i mascara li uso finché non finiscono o finché non si seccano e diciamo che come comunque primo effetto così mi piace molto anche se c'è da dire che io ho di base sono fortunata ho delle belle ciglia nonostante io utilizzi praticamente tutti i giorni le ciglia finte proprio perché a me piace un effetto molto più drammatico e non avendo tempo di truccarmi metto le ciglia finte ho un effetto figo anche se ho poco trucco e sono a posto però ci sono anche le mattine in cui non ho neanche il tempo di respirare quindi neanche il tempo di applicare le ciglia finte la passata di mascara è via a parte in questo momento che appunto non ho la parte finale qui e quindi mi sento un po' a disagio e quindi metto quelle finte lo stesso però devo dire che l'effetto qui così mi piace vi saprò dire magari beh non adesso perché lo edito immediatamente se che forse lo vedete già stasera questo video però magari nei prossimi giorni dove sicuramente registrerò di nuovo comunque nelle stories di instagram quindi se non mi seguite su instagram seguitemi sono sempre bambola malefica mi trovate ovunque con quel nickname vi dirò appunto come mi sono trovate se mi trovo bene male no se è dura o non dura quindi cercherò anche di non usare le ciglia finte per dirvi come mi trovo però già che ci sono visto che comunque sulla base ho utilizzato i prodotti Mulac vedo qui subito con l'illuminante che in video in questo momento mi sta facendo tanto il risultato ho utilizzato un mirror che l'ho utilizzato un casino quest'estate come base e sopra l'ho fissato con Hitchquick questo qua dorato dell'altra palette Mulac questi prodotti mi sono stati sempre inviati ve lo dico perché sapete ci tengo a dirvi queste cose niente io ora torno ad editare il makeup tutorial di Uda Beauty perché ci temo molto che lo vediate anche perché non ho solo quello da editare ma ne ho anche un altro che avevo registrato ancora prima di quello e quindi niente vado ad editare video per voi noi ci vediamo al più presto con un nuovo video fatemi sapere nell'info box che video volete tutorial get ready with me chiacchiere, recensioni prodotti top di quale marca qualsiasi cosa ditemi se avete qualche idea così poi appena posso registro e presumo che registrano domani numericano sono mia ho comprato delle scarpe nuove bellissime ma ve le farò vedere e niente vi saluto vi mando un bacio anzi questo lo devo dire vi saluto vi mando un bacio se così sarebbe meglio ciao 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 ciao